Plurimo più è il progetto presentato e firmato nella sede della CNA che vede la collaborazione tra Croce Rossa, Casa della Salute e CNA appunto. Il progetto prevede che la Croce Rossa italiana andrà a vaccinare gli iscritti all'associazione di categoria nel centro di San Gregorio in collaborazione con Chiara Petrocco, presidente della Casa della Salute. La Croce Rossa già è in prima linea nella lotta contro il Covid sin dall'inizio, fondamentare il loro supporto nei vari screening per la popolazione e non solo. Lo scopo è quello di continuare con la campagna vaccinale e intensificarla, quindi questo protocollo d'intesa ci consentirà appunto di appoggiare la CNA, quindi di fare rete e appunto dare supporto per le vaccinazioni, gli associati diciamo e anche le persone pensionate che sono nel patronato quindi i più vulnerabili e quindi daremo questo aiuto all'associazione della CNA. Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale sanitario di Croce Rossa e il centro individuato sarà con la collaborazione con la dottoressa Petrocco Chiara, quindi il famoso ambulatorio di Croce Rossa costruito post-sisma. La Confederazione Nazionale degli Artigiani da Tempo ha già una collaborazione attiva con Croce Rossa per la prevenzione, fa tamponi nei cantieri come hanno ricordato il presidente Claudio Gregori e il direttore Agostino del Re. Questo è un ulteriore passaggio che consentirà la vaccinazione di una platea di circa 2000 persone nella struttura di riferimento, ma anche con unità mobili e nelle aziende dove possibile. Noi abbiamo tre elementi fondamentali, uno è il controllo, quindi con i tamponi, quindi evitiamo che si disperdi una persona e fare contaminazione. Due, la cura da non dimenticare, chiaramente perché questa contaminazione va sostenuta, va anche curata, e poi fa altro elemento più importante che è quello del contrasto. Noi come CNA abbiamo circa 2000 iscritti, quindi siccome noi è un servizio che potremmo fare anche ai cittadini, pensionati e anche a quelli che fanno parte della CNA patronato e quant'altro, arriveremo a 3-4 mila.